Buonasera, interrompiamo le trasmissioni per un triste annuncio. È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Gino De Gini ed è venuto qui nei nostri studi per portare un ricordo, una testimonianza il suo amico e collega di sempre, di una vita, Gino De Gino. Buonasera, ricordo De Gino, una persona lucida, sempre lucida, lucidissima, ma veramente tanto lucida che chiunque veniva da noi diceva mamma mia quanto è lucido, è così lucido, ha la sua età ed è così lucido, ma come fa a essere così lucido? È lucidissimo, ma come fa? Lo so io, lo so io come fa a essere così lucido, ma tutti rimanevano impressionati dalla sua lucidità, una persona estremamente lucida, ma anche dopo morto, dopo morto, alla camera mortuaria, tutti venivano, madonna quanto è lucido, ma è proprio lucidissimo, e io dicevo, è lucido, è lucido, è come se è lucido, tanto lucido, una persona lucida. è che vogliamo, è io, è lucido, buonasera.